Anticipazioni Tempesta d'Amore, trama puntate, domenica 13 febbraio 2022. Eric scopre che Arian gli ha lasciato un biglietto d'addio e il suo testamento. Quando nota che Christophe ha preso entrambi i documenti, confide i suoi terribili sospetti a Sedina, che fa una scoperta terrificante. Mai e Florian salvano Arian e tra i due ragazzi al luogo, un riavvicinamento. Più tardi Bob confida a Max di amare ancora la vonta Lame, lei invece ammette di avvertire forte la mancanza del suo amato. Hildegard convince Benny a fare un giro in bicicletta con Cornelia. Lungo la strada la donna cerca di fare i conti con il suo passato, ma suo figlio non è disposto a ascoltarla e la blocca. Poi i due si rendono conto di aver perso la strada. Robert organizza un picnic nel corso del quale Benny inizia a vedere la madre sotto una luce diversa. Rosalie convince Werner a darle il terreno per il campo da calcio. Lui è titubante. Grazie a tutti.